Grazie a tutti. C'è una casa che ti aspetta. Perché restare qui? Non ha certo una reggia. Ti dirò quando me la sento di partire. Che senso ha rimanere qui minuto di più? Non abbiamo nemmeno l'acqua. C'è quella del pozzo dei pastori. Sì, ma sarai impura per 40 giorni. Ci sono delle regole. Bisogna rispettarle, Maria. Adesso ho altre regole da rispettare. Ti fa male quando giuccia? Ruth, bada a fuoco. Giuseppe, vieni. Giuseppe, vieni. Ciao. 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 Grazie a tutti.